Perciò è matto La foto e il video? No si, se meno no Ma che sei matto? Ah è vero? Non puoi? Una volta per sbaglio ho fatto una foto e io per poco non mi ammazzano No no, le ammazzano Non vogliono, danno lazione Ah, fai chiede nel pesa così non mi sa un cazzo Anche perché lo sanno che... pure questo Ma qui non è che stai riprenderlo nulla di male C'è sotto un motivo Praticamente Se tu fai su Youtube Tra le parole più licenziale mi guardo a basso Poi c'è Soinana Mandagliare Che fai su Youtube Allora io li ho messi E' sempre portato traffico Arrivano sul canale Poi vanno sul sito Tutta una tecnica E' sempre portato E' sempre portato Poi vanno sul canale Poi vanno sul canale Grazie.